C'è stata questa comunicazione con Giuseppe Conte, primo ministro, che domattina farà un coordinamento di tutte le regioni proprio per dare a queste ordinanze un indirizzo di carattere nazionale, giustamente l'emergenza nazionale e noi non ci sottraeremo certo, questo confronto ci mancherebbe, siamo anche più contenti che ci sia un modo di operare omogeneo per tutte le regioni. Noi siamo pronti, abbiamo già predisposto tutti gli strumenti, è chiaro che quelli di carattere più sanitario resteranno sicuramente valide, le parti che entrano in discussione sono soprattutto quelle che riguardano le scuole e le manifestazioni, quindi è quegli aspetti più impattanti sulla comunità che probabilmente verranno regolati con indirizzi di carattere nazionale. Quindi il lavoro l'abbiamo fatto, siamo pronti, domani ci sarà questo confronto, a seguito di questo confronto poi manderemo l'ordinanza. Presidente, scusi, il numero verde che volevate? È pronto, sarà pronto attivo da domattina, quindi dalle 8 alle 8, dalle 8 di mattina alle 20, sappiamo che chi ha primi sintomi o dei dubbi può chiamare il proprio medico curante piuttosto che la continuità assistenziale che sarebbe la guardia medica o il pediatra di libera scelta se si tratta di più piccoli. In ogni caso ci sarà questo numero a disposizione di tutti per potersi informare e per poter avere quella persona competente all'altro capo del filo che ci aiuta a non sbagliare perché resta la forma di prevenzione maggiore quando sia un sintomo non muoversi da casa. Questo è, chiamiamolo, il mantra sul quale dobbiamo lavorare tutti perché è importante che il comportamento sia quello e poi verremo noi a casa le risposte. E anche le telefonate della protezione civile ai marchigiani? Sì, dopo l'ordinanza ovviamente in modo da poterne esplicitare anche i contenuti, ci sono dei marchigiani, specie più anziani che non sono tutti social, noi non possiamo fare affidamento neanche sui mezzi tradizionali perché non è detta che possano raggiungere tutti quanti e anche la telefonata può aiutare. L'idea è di non lasciare perdere nessun mezzo di comunicazione per dare quelle informazioni, soprattutto di comportamenti individuali quando si deve fare prevenzione o quando si ha qualche sintomo su come comportarsi.